Prima Let there be a firehead star Vedo tanto che quello che mi piace nei videogiochi poi tendo a farlo uscire come idee al lavoro A 4-5 anni avevo il mio computerino di Hello Kitty ho delle Barbie, delle Winx ce ne sono stati parecchi perché poi duravano poco Bisogna andare incontro a un minimo anche a delle regole ovviamente non posso fare tipo interfaccia dei sims qua Sono Ilaria Mammoliti ho 25 anni e lavoro presso Cetena nel gruppo Fincantieri Lavoro nell'ufficio da febbraio-marzo del 2021 dal tirocinio e poi a novembre sono stata assunta Sono una programmatrice mi occupo di utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno del stimolatore e mi occupo anche di sviluppo di realtà aumentata è come se pensasse l'intelligenza artificiale è come se ragionasse in realtà non stai ragionando ovviamente è tutto programmato lo formi tu programmando è come un po' se insegnassi a un bambino in sostanza il futuro comandante o l'equipaggio viene da noi per addestrarsi per vedere magari il tipo di reazione o il tipo di comportamento che potrebbe assumere se magari si trovasse un'altra nave magari più piccola davanti per vedere come reagirebbe che comandi darebbe all'equipaggio Ho iniziato a lavorare anche con l'Hololence con il caschetto di realtà aumentata è stata una novità perché non mi aspettavo comunque una cosa del genere cioè quando me lo sono messo in testa sembrava di essere in un film perché è assurdo finché secondo me non si prova non capisci La mia passione per l'ambito della simulazione in generale è iniziata all'università ci è stata proposta una borsa di studio che prevedeva l'introduzione in diverse aziende c'era Cetena era l'unica che mi interessasse mi dice speravo parecchio effettivamente ha i ponti è bello e dà le giuste soddisfazioni e in più ti diverti